Proteste dei residenti in via Serroni Alto per il fondo stradale divenuto una gruiera. A lanciare l'allarme è stata una residente della zona che ha pubblicato un video che dimostra le buche e i ridossi sulla strada, sul social network Facebook. Nel post del video ha scritto Che dite? La rifacciamo questa strada a Serroni Alti? Dobbiamo rompere le macchine perché il comune non può mandare qualcuno ad aggiustarle. Serroni è abbandonata ormai. In tanti hanno visto il post e soprattutto la macchina nel video che percorre l'arteria, piena di dossi e buche, immediati commenti e anche like di assenso alla denuncia. Il fondo stradale è davvero all'osso, occorrono interventi urgenti per evitare danni a chi transita con moto ed auto. Nei commenti di tanti cittadini ci sono le rimostranze verso l'amministrazione comunale. In uno di questi viene messo in evidenza da una residente. Ma perché Serroni Alto fa parte di Battivaglia? Non so quante volte ho bucato per colpa di questa strada e delle buche che si formano. Possiamo farci una piscina, poveri noi. Poi chiede all'amministrazione. La signora francese pensa solo al centro di Battivaglia. Da noi a Serroni Alto siamo dimenticati. Sono 44 anni che ci abito e non vedo mai la polizia o un autovelox. Su questa strada corrono come pazzi. E quante volte ho rischiato di essere investita per attraversare. Speriamo che non ci capiti mai un bambino, anche se pochi anni fa hanno investito due stranieri. Ed aggiunge che neanche in quell'occasione la sindaca ha fatto qualcosa. Non ne parliamo poi per una disinfestazione. Siamo circolati da tanti animali.